Bentornati su Facile Sommelier. Raboso, vino ottenuto dai vitini Raboso Piave e ci troviamo quindi in provincia di Treviso e Raboso Veronese. È un vino abbastanza importante che deve essere adatto all'affidamento in legno e che quindi deve essere aperto un pochettino prima. Andiamo a fare la nostra degustazione. È un rosso rubino abbastanza intenso, sentore di frutta vaccaossa, di ribes sicuramente, di amarena, ma anche di tabacco, caratterizzato da tannicità ma soprattutto da acidità. Oltre alla versione secca c'è una versione dolcia e una versione vendemmia tardiva. Raboso, su Facile Sommelier.